La scoperta delle schiere angeliche con Julio Loredo Ave Maria, un buongiorno e una buona giornata a tutti i carissimi radioascoltatori di Teleradio Buon Consiglio. Al microfono Giulio Loredo e questo è un programma sugli angeli. È la quarta puntata della serie sugli angeli e oggi tratteremo della gerarchia angelica. Voi vi ricordate che abbiamo visto l'esistenza degli angeli, abbiamo visto alcuni elementi della natura degli angeli, chi sono gli angeli, come sono gli angeli. L'ultima puntata abbiamo visto l'intelletto angelico, cioè come conosce l'angelo, che è un modo diverso da come conosce l'uomo. L'angelo conosce le cose in Dio, ma ci sono certe cose che l'angelo non può conoscere, vi ricordate, per esempio il futuro. Per esempio l'intimo del cuore degli uomini, l'angelo quello non lo può conoscere. Oggi tratteremo della gerarchia angelica. E io dico subito che è un punto importantissimo, perché se voi vedete tutti i mali, tutte le cattiverie, le cose che stanno succedendo oggi, in fondo sono per un peccato di ugualitarismo. Il primo peccato dell'istoria, quello che è la matrice di tutti i peccati dell'istoria, Lucifero, non ubbidirò, cioè io non mi sottometto a te, Dio, e non accetto l'ordine che tu hai creato nell'universo. Quindi è stato un grido ugualitario. Io voglio essere come Dio, non tollero che ci siano superiori a me. Quindi l'unico superiore era Dio, quindi Lucifero era così ugualitario che non tollerava nemmeno Dio come superiore. E tutto il male che è venuto dopo viene da questa radice ugualitaria. Per esempio, noi pensiamo all'immoralità. L'immoralità è in fondo anche un problema di ugualitarismo, perché è dire che non ci sono regole superiori alle quali noi dobbiamo obbedire. Perché se io devo obbedire, quello a che io obbedisco è superiore. Che uno obbedisce quando c'è qualcosa di superiore. Quindi la morale è qualcosa di superiore perché? Perché viene da Dio che è superiore. Io voglio essere il mio Dio, io voglio fare quello che mi piace, quello che mi viene voglia di fare. Io sono il mio Dio. E questo è ugualitarismo. Quindi questo non è un'analisi da fare oggi. Comunque noi potremmo fare un'analisi di tutti i mali, tutte le cattiverie, tutto che succede oggi. E vedremo che la radice, la sorgente è questo atteggiamento ugualitario. Cioè questo atteggiamento di non accettare nessuna cosa al di sopra di me. E quindi lo studio della gerarchia angelica è fondamentale. Lo studio della gerarchia angelica ci permette di andare all'essenza del nostro apostolato contrario ai problemi del mondo moderno. Io comincio, sapetevi, vi ricordate che stiamo trattando di questo libro, L'Angelica Milizia di Plinio Correa di Oliveira. La Chiesa ci insegna, e questo come verità di fede, l'esistenza degli angeli. Ci insegna pure la loro disposizione gerarchica, cioè la Chiesa dice che gli angeli sono disposti in modo gerarchico. Perché tutto l'universo è gerarchico, gli angeli fanno parte dell'universo, quindi anche la disposizione angelica è gerarchica. Però non ci insegna concretamente com'è quella, la gerarchia angelica. E quindi serve tutto un lavoro intellettuale, tutto un lavoro di elaborazione dottrinale per escogitare, per esplicitare, per spiegare com'è la gerarchia angelica. Ora, da sempre, da sempre, gli angeli sono stati divisi. Dico da sempre, nel senso che dai primi teologi che si sono occupati degli angeli, lo pseudo Dionigi, Aropagita per esempio, parlano di tre triadi. Poi vedremo concretamente cosa è ogni triade. Triade vuol dire una cosa composta di tre. Tre triadi, ogni triade composta da tre cori. Quindi abbiamo nove cori. Il nome dei cori ci viene dato dalle Sacre Scritture. Le Sacre Scritture non dicono come sono disposti gerarchicamente questi cori, però danno i nomi di questi cori. Quindi Serafini, Cherovini, Potestà, Troni, Dominazione e Virtù, Principati, Arcangeli e Angeli. L'autore di questo libro, Pino Correa di Oliveira, dice una cosa subito, introducendo questo capitolo sulla gerarchia angelica, che è una cosa molto molto bella. Se il fatto che la gerarchia angelica sia composta da tre triade, ognuna composta da tre cori, mi sembra avere un significato metafisico molto profondo. Io mi domando se i predicati delle cose non possono essere divisi in tre. Cioè tutto nell'universo è trinitario. Dio è uno e trino. E siccome l'universo riflette Dio, tutto nell'universo è trinitario. Anche i cori angelici sono trinitari. La prima triade sono i cori contemplativi, sarebbero i teologi. Poi vedremo in concreto in cosa consiste questo essere contemplativo. La seconda triade sono i cori governativi, quelli che governano. Poi la terza triade sono i cori esecutivi, o potremmo chiamarle i guerrieri, cioè quelli che agiscono, quelli che lottano, eccetera. Plinio Correa d'Olivera dice Dietro questa divisione vi è un problema metafisico molto bello. Nell'ordine assoluto delle cose la funzione più alta è l'amare, poi l'intendere, cioè l'intelligenza, e infine l'agire. E questo già ce la dice lunga su quanto si è sbagliato il mondo moderno. Il mondo moderno capovolge questa gerarchia. Per un cattolico il più importante è amare. La seconda cosa più importante è il capire, cioè l'intelletto, l'intelleggere. La terza cosa più importante è l'agire, l'azione. E' perciò che San Gregorio Magno, il Papa San Gregorio Magno, San Gregorio I, è uno dei primi grandi teologi dell'epoca patristica, che ha studiato gli angeli. E lui chiama i primi cori incendio, cioè fuoco, amore. La seconda triade, pienezza di scienza, cioè conoscenza. E la terza, eserciti. Tre sono le attività fondamentali, la contemplazione, l'azione e la lotta. E quindi, qui scusi, ho lasciato il libro da parte, scusate, io devo ogni tanto, ecco, consultare il libro per poter leggervi qualche testo ipsis literis. Perché nove cori? E qui ci sono diversi motivi. Abbiamo visto perché tre triade, tre tre tre, perché questo riflette la Santissima Trinità, e l'amare, l'intelleggere, agire, eccetera, ha un suo motivo di essere. Ma perché all'interno di ogni triade ci sono tre, e quindi in totale ci sono nove cori. E qui entra tutta una elaborazione, piuttosto dottrinale, piuttosto intellettuale, fatta dai teologi, cioè da quelli che studiano Dio e le cose di Minio. Il primo che ha trattato sulla gerarchia angelica è il cosiddetto pseudo-Dionigi Aropagita. Lui firma Dio-Nigi l'Ariopagita e chiama San Paolo il mio maestro. Quindi per molto tempo si è creduto che fosse quel Dio-Nigi, San Dio-Nigi Aropagita, convertito da San Paolo nell'Aeropago di Atene. L'Aeropago, voi sapete, è il congresso, cioè la Camera dei Diputati, diciamo, di Atene. E quando San Paolo va in Grecia, parla nel Aropago e riesce a convertire uno in tale Dio-Nigi che è diventato San Dio-Nigi. Quindi per molto tempo si è pensato che questo fosse il Dio-Nigi di epoca di San Paolo. Invece la critica storica, la critica scientifica, ha dimostrato che no, che si tratta di un teologo del secolo V, di aria greca, e quindi lo si cita come lo Pseudo Dio-Nigi Aropagita, non quel San Dio-Nigi, ma lo Pseudo Dio-Nigi Aropagita. Lui ha scritto, forse il primo libro, credo che sia proprio il primo libro, sulla gerarchia angelica, che si chiama proprio così della gerarchia celeste. E lui inizia la sua analisi commentando quel brano dell'Epistola di San Giacomo, ogni bene viene a noi dal padre delle luci. Lui dice Dio è illuminazione, è una illuminazione tearchica, lui chiama quindi il Teo-Dio-Arcos-Potere, il potere di Dio che illumina l'universo. E lui fa un'analisi che io non lo farò, un po' troppo profondo, troppo... non è il caso di farlo qui. Quella luce arriva a noi attraverso nove tappe, o nove modi di essere di questa luce. Quindi la luce parte da Dio e arriva a noi attraverso nove tappe, nove passi. Ripeto, non vi faccio l'analisi qui, però è così che lui arriva alla giustificazione, alla spiegazione che ci siano nove cori. Perché? Perché la luce di Dio arriva a noi, servono nove tappe. E quindi ad ogni tappa corrisponde un coro angelico. Altri teologi, per esempio, Sant'Omaso d'Aquino, parte dall'analisi della azione. Cioè, l'azione ha... anche qui non entro nei dettagli, io ve lo racconto perché voi sappiate qual è la profondità dell'estudio sugli angeli. e dal concepimento, da quando io concepisco un'azione finché la esecuto, che la faccio, trascorrono nove tappe. Sono le nove tappe del agire. e quindi ogni tappa corrisponde... ad ogni tappa corrisponde un coro. Per esempio, diciamo... e lui, Plino Corrado Libera, fa l'esempio di Santo Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti. La sua meta, il suo lema e il suo moto era Ad Maggiorem Dei Gloriam, per la massima gloria di Dio. Quindi la prima cosa è dire io voglio fare la massima gloria di Dio. Poi però devo cominciare a pensare come potrei io fare questa massima gloria di Dio? Ed ecco che comincio a fare dei progetti teorici, dei piani, dei progetti. Quindi come potrei attuare la massima gloria di Dio? Questo è il secondo coro. Ma poi devo cominciare a guardare verso l'azione. Cioè vediamo che possibilità di attuazione concreta ha questo mio progetto. E queste sono le potestate che è il terzo coro della prima triade. Ma poi questo progetto ci sono quelli che pensano che lo concepiscono poi deve passare a persone che lo progettino. Voi sapete che per esempio un architetto quando lui concepisce un palazzo lui ha l'idea e lo disegna pure. ma poi sono gli ingegneri che devono fare i calcoli matematici per vedere i materiali la forza di qua il peso di qua eccetera eccetera. Questo non è l'architetto l'architetto concepisce l'ingegnere poi o il geometra scusa mi percusate il geometra che poi è un ingegnere insomma fa i calcoli del progetto ma il geometra non costruisce il palazzo il palazzo lo costruiscono gli operai quindi ci sono gli operai e questa è la terza triade che sono i cori esecutivi quindi vedete i primi cori pensano concepiscono fanno i progetti i secondi cori quindi troni potestai virtù i secondi cori fanno la progettazione concreta e le formule diciamo per applicare e poi passano ai cori esecutivi principati arcangeli angeli che esecutano cioè fanno compiono quel piano quindi vedete l'ho fatto molto semplice molto veloce ma soltanto perché possiate capire cosa significa questa cosa delle varie tappe dell'agire allora ad ogni tappa corrisponde un coro allora cosa sono questi cori cosa fanno e qui siamo basati soprattutto in lo pseudodionigi aropagita quindi sono serafini cherubini troni dominazione potestà virtù principati arcangeli e angeli questi sono i nuovi cori il serafino è lo spirito di la più alta caratura che possiede un'eminentissima conoscenza delle finalità del creato e della gloria di Dio cioè il serafino vede la gloria di Dio la gloria di Dio in assoluto perfetta limpissima eccetera eccetera la gloria di Dio il cherubino che è il secondo coro i cherubini non conosce tanto il fine in Dio ma conosce l'ordine del creato il movimento dell'universo quindi il cherubino comincia a pensare già in termini un po' più pratici quella visione del serafino è bellissima è troppo teorica vediamo di metterla un po' più in pratica un po' più in formule un po' più in piani in progetti questo è il cherubino il cherubino pensa il serafino ama il contempo il cherubino pensa quindi il cherubino comincia a diciamo strutturare la visione del serafino poi viene il trono che conosce in Dio dice lo pseudo Dionigi l'emanazione dei decreti con i quali egli governa l'universo cioè i suoi atti di governo in altre parole i troni che è il terzo coro della prima triade già stanno guardando all'esecuzione cioè hanno già un occhio per così dire gli angeli non hanno occhi però per così dire un occhio sulla esecuzione quindi i troni vedono in Dio i decreti per i quali Dio governa l'universo quindi se il trono guarda in su verso il cherubino e verso il serafino lui vede la sorgente di queste idee se lì guarda in giù lui vede l'applicazione concreta di queste idee ma poi serve qualcuno che diriga l'esecuzione un direttore quindi i troni passano questo progetto alle dominazioni che è il primo coro della seconda triade e le dominazioni distribuiscono i servizi cioè le dominazioni dominano governano se tu fai questo tu fai quello tu fai quell'altro quindi rappresentano dice lo pseudo Dionigi a Ropagita la capacità di dirigere tu fai questo tu fai quell'altro e tu quell'altra cosa quindi organizzano e già impartiscono ordini poi vengono le virtù virtù vuol dire forza virtus in latino vuol dire proprio forza per esempio dominus virtutum è il signore degli eserciti perché l'esercito è la forza che è inutile dare ordine se non viene accompagnata dalla forza per esecutare quell'ordine ora questa forza per esecutare gli ordini viene dalle virtù che è il secondo coro della seconda triade quindi le virtù comunicano il movimento a tutto l'universo hanno un'eminente capacità di azione queste sono le virtù quindi ricevono l'ordine dalle dominazioni e mettono la forza per poter esecutarla le virtù sono forze però voi sapete quando si applica quando si esecuta qualsiasi progetto e vengono le contraddizioni vengono i problemi vengono gli ostacoli vengono addirittura le contraddizioni cioè persone che si mettono contro ed ecco che serve una tra virgolette una forza di polizia per mettere ordine in queste cose e queste sono le potestà collaborano in l'opera di Dio occupandosi specialmente degli ostacoli cioè loro non esecutano il piano ma loro distruggono i fattori o le forze che si oppongono al piano di Dio in questo senso anche loro fanno parte del piano di Dio però fanno parte del piano di Dio concretamente nel opporsi ai fattori contrari e quindi San Dionisi dice le potestà sono il terrore dei demoni e questo chiude la seconda triade poi viene la terza triade che sono i cosiddetti cori esecutivi perché vedete fino a questo punto non si è esecutato non si è fatto concretamente il piano di Dio questo è tutto a livello organizzativo combattivo eccetera poi vengono i principati gli arcangeli e gli angeli che mettono in azione cioè concretizzano il piano di Dio i principati si prendono cura dei popoli e dispongono dei regni poi vedremo quando tratteremo degli angeli custodi che ci sono anche angeli custodi delle nazioni beh le nazioni non hanno un angelo come custodi hanno un principato come custodi non lo chiamiamo angelo perché sono tutti angeli però in realtà è un principato per esempio l'angelo custodi dell'Italia non è un angelo non è un arcangelo è un principato l'angelo custodi della Francia eccetera eccetera hanno le mosse della storia nelle loro mani cioè la storia si guida a seconda l'azione dei principati che loro governano i popoli sono gli angeli custodi dei popoli dei regni quindi l'istoria si muove secondo l'azione dei principati l'arcangelo veglia sul bene comune della fede e degli affari di culto e serve di angelo custode per certe realtà superiori per esempio noi vedremo dopo quando parleremo degli angeli custodi anche le famiglie hanno un angelo un angelo custodio ma la famiglia può avere un arcangelo custodio sono grandi famiglie principesche per esempio che hanno avuto un ruolo preponderante nell'istoria del nostro paese i principi i principi romani per esempio questo tipo di famiglia ha un arcangelo perché un arcangelo e non un angelo come tutti gli altri perché loro hanno una valenza pubblica adesso non più perché siamo in una società molto più ugualitaria ma quando c'erano le gerarchie quello che faceva un principe aveva molto più effetto molto più conseguenze sociali pubbliche che non quello che faceva un contadino ed ecco perché oltre al suo angelo custodio personale un principe poteva avere e aveva l'angelo custodio della sua famiglia e questo è un arcangelo poi vengono gli angeli e gli angeli sono il più basso coro cioè il coro più basso gli angeli custodi delle persone sono angeli quindi sono membri del coro più basso voi direte ma beh l'arcangelo San Michele l'arcangelo San Gabriele sono serafini sono angeli sono arcangeli come mai e qui faccio una brevissima brevissima spiegazione arcangelo vuol dire un arciangelo quindi un angelo molto elevato molto superiore noi possiamo utilizzare questo termine arcangelo in due sensi sia un arcangelo veriproprio cioè membro del penultimo coro delle arcangeli oppure nel senso lato nel senso generico di un arciangelo e arciangelo sono tutti quelli superiori quindi anche un serafino e un arciangelo e quindi il termine arcangelo può essere utilizzato sia in modo specifico riguardante i membri del secondo coro quello degli arcangeli oppure in modo lato e volendo dire un superangelo un arciangelo andiamo più concretamente all'analisi dei vari dei vari cori che poi nella prossima puntata faremo parleremo più dei tre arcangeli San Michele San Raffaele di San Michele comunque i serafini tendono quindi il primo coro i serafini tendono sempre ed esclusivamente verso le forme più elevate del sacro come la corda di un arco sempre tesa ecco un concetto perfetto di puro colui che ha perso qualsiasi tendenza verso il basso sono il coro mistico cioè i serafini sono il primo coro i serafini sono quelli che contemplano che vedono Dio direttamente è il coro più alto più elevato dice lo pseudo Dionigi Aropagita i serafini hanno una deificazione io vi spiego questa questa espressione perché lui parla nel linguaggio greco del secolo quinto quindi immaginatevi cosa può significare per noi oggi però lo spiego subito dopo i serafini hanno una deificazione primaria e super eminente cos'è deificazione deificazione dei deo forme forma quindi loro si assomigliano a Dio loro prendono la forma di Dio in modo super eminente molto più di tutti gli altri angeli loro sono il primo coro che riceve questa luce da Dio in modo primario cioè diretto immediato il primo coro loro sono in contatto diretto con Dio ed ecco che hanno una deificazione cioè si assomigliano a Dio primaria e super eminente che conferisce loro una scienza delle operazioni divine molto maggiore di quella comunicata agli angeli cioè i serafini capiscono Dio conoscono Dio molto meglio di qualsiasi altro angelo hanno una intimità con Dio quindi gli serafini sono quasi quasi che sono dentro di Dio dentro fra virgolette chiaramente hanno una intimità con Dio cioè i serafini sono gli amici intimi di Dio noi tutti abbiamo diverse cerchie di amicizie dalle amici intimi alle amici un po' meno intimi fino alle nostre conoscenze quelli intimi sono quelli per esempio ai quali noi possiamo raccontare cose del cuore possiamo raccontare cose della nostra famiglia appunto sono gli amici intimi quelli sono pochissimi sì mai ecco i serafini sono gli amici intimi di Dio hanno una vera intimità con Dio e ricevono una partecipazione primaria della luce divina partecipazione vedete come è preciso questo termino non è identità uno quando partecipa cosa vuol dire partecipa uno fa parte di questo vuol dire partecipare fare parte di fare parte di non vuol dire identificarsi con quello vuol dire appunto fare parte di i serafini partecipano in modo primario cioè diretto della conoscenza delle luce divine quindi della luce di Dio ma pensate quanto sono alti quante sono elevati quanto sono perfetti i serafini partecipano direttamente della luce di Dio quindi stanno lì quasi quasi un millimetro in più e già si confondono con Dio per così dire quindi sono davanti a Dio contemplandolo in tale modo che sono quasi dentro di Dio e già i cherubini quindi il secondo coro è un po' diverso il secondo coro se hanno l'attitudine questo è lo pseudo di Onigi hanno l'attitudine di ricevere il più alto dono della luce e di contemplare lo splendore divino riempiendosi di sapienza quindi intelletto e quindi comunicando alle spiriti di secondo rango la sapienza ricevuta quindi loro ricevono dai serafini la più alta luce che ci sia che non è direttamente quella di Dio bensì attraverso i serafini quindi il più alto dono di contemplare lo splendore divino riempiendosi di sapienza ricordate che abbiamo visto nella precedente puntata che il serafino piuttosto ama si definisce più per l'amore il cherubino si definisce più per la scienza cioè per la conoscenza ed ecco che lui si riempie di scienza e trasmette agli spiriti di secondo ordine quindi gli angeli inferiori e la sapienza ricevuta è una forma altissima di conoscenza comunque inferiore a quella per con naturalità dei serafini i serafini conoscono perché stanno incolati a Dio quindi conoscono come si dice per con naturalità i cherubini no i cherubini ricevono questa luce non tanto per con naturalità quanto per conoscenza quindi i cherubini conoscono e poi io passo alle potestà le potestà vi ricordate sono il terzo il terzo il terzo coro trono se la potestà sono delle no scusate ho saltato una ho saltato scusate ho saltato due pagine e già mi sembrava strano questo scusate tanto il terzo trono della prima triade come abbiamo visto sono i troni se essi si elevano verso l'alto dice lo pseudo di Onigi e si separano da ogni bassezza quindi i troni devono fare un certo sforzo per elevarsi mentre i serafini volano i cherubini pure volano i troni siccome sono inferiori devono fare una certa forza per elevarsi e quindi proprio perché sono più vicini agli angeli inferiori hanno bisogno di stabilire una separazione netta di erigere un muro che segni la differenza con i cori con i cori inferiori pur essendo contemplativi ricordatevi che i tre primi cori sono i cori contemplativi i troni sono il terzo pur essendo contemplativi i troni sono più apostolici sono più governativi Dio li illumina e li riempie di sapienza sì ma ormai con l'intento di agire al di fuori della triade quindi i troni come ho detto hanno già un occhio sulla azione poi vengono viene la seconda triade dominazione virtù potestà le dominazioni dice lo pseudo Dionigi partecipano al principio di ogni dominazione di Dio si elevano sopra gli inferiori non in modo tirannico ma tutto dominando cioè le dominazioni dominano governano le dominazioni ricordatevi sono quelli che danno gli ordini io ti ordino tu vai di qua tu vai di là perché io domino io ho il signorio io ho la facoltà di governare che partecipano alla dominazione divina non in modo tirannico ma tutto dominando in modo inflessibile le dominazioni modellano gli inferiori in modo in modo benevolo poi vengono le virtù le virtù vi ricordate sono quelli che danno la forza il nome delle virtù scrive lo pseudo Dionigi significa coraggio virile e inflessibile in tutte le operazioni che li rendi dei formi cioè simile a Dio le virtù non ammettono debolezza sono fisse nella virtù produttrice di ogni virtù quindi le virtù sono quelli che diffondono e danno la forza per esecutare le ordini di Dio commenta Prino Correa d'Oliveira vedete la forza di volontà delle virtù sono coraggiose e allo stesso tempo energiche non cedono di fronte alla molezza paura e molezza sono reversibili e proprio delle virtù comunicare la forza di Dio sulle potestà lo pseudo Dionigi dice sono sono dell'esteso rango delle dominazioni e le virtù sono della seconda triade ricevono i doni di Dio in modo gerarchico ordinato hanno un fuoco e si elevano verso Dio elevando tutte le creature del rango inferiore per il principio creatore del loro potere quindi le potestà hanno potere sono gli arditi sono la polizia i carabinieri del cielo le potestate sono i carabinieri del cielo sono quelli che lottano contro gli ostacoli poi vengono principati arcangeli e angeli che sono i tre ultimi 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 cori io veramente potrei potrei andare avanti un po' ancora abbiamo una decina di minuti dice lo pseudo Dionigi il nome dei principati quindi qui ricordatevi siamo nella terza triade cori contemplativi cori governativi cori esecutivi questi sono i cori esecutivi principati arcangeli e angeli il nome dei principati dice lo pseudo Dionigi significa che esercitano appunto un principato un'egemonia di ordine sacrale ciò corrisponde perfettamente ai poteri preposti a comandare quindi i re gli imperatori i governatori dei popoli ecco perché i principati sono gli angeli custodi delle grandi realtà sociali delle grandi realtà politiche l'angelo custode dell'Italia molto probabilmente sia un principato che l'Italia è un paese quindi esercitano un principato un'egemonia di ordine sacrale ciò corrisponde perfettamente ai poteri preposti a comandare per il fatto di essere rivolte verso il principio più che principale ecco questo è un linguaggio un po' tipico dello pseudo Dionigi aropagita cosa vuol dire molto semplice un potere pubblico perché governa dovrebbe governare per la maggior gloria di Dio un potere pubblico governa per portare le anime a Dio voi direte ma questo è un compito della Chiesa sì è un compito della Chiesa e perciò anche la Chiesa ha principati come angeli custodi però anche lo Stato dovrebbe facilitare l'azione della Chiesa e aiutare la Chiesa a portare avanti la sua opera salvifica quindi anche lo Stato ha una finalità sacrale nel suo campo e anche lo Stato quindi ha una finalità sopranaturale dovrebbe facilitare la vita della virtù e dovrebbe far sì che tutta la società sia coerente con la dottrina e l'espirito della Chiesa e favorisca l'espirito cattolico ecco perché la missione principale di un governante di un primo ministro di un presidente non è le tasse i migranti sì queste sono cose importantissime per carità ma quello che per un cattolico interessa è questo presidente sta portando le anime a Dio sì o no nella misura in che questo presidente porti le anime a Dio sarà un buon presidente nella misura in che non porti le anime a Dio non sarà un buon presidente portare le anime a Dio ripeto non come lo fa la Chiesa nel campo spirituale ma in modo coagliuvante cioè lo Stato deve coagliuvare deve aiutare la Chiesa a portare le anime a Dio ecco cosa vuol dire lo pseudo Dionisi quando dice che gli angeli custodi dei regni dei governanti sono principati che sono preposti a comandare per il fatto di essere rivolti verso il principio più che principale cioè la loro missione ultima cioè di portare anime a Dio perciò che esistono i principati per essere gli angeli custodi dei governanti che dovrebbero dovrebbero portare le anime a Dio esercitando la loro autorità si rivelano come principio ordinatore delle potenze principali questo è molto interessante perché i principati sono quelli che mettono in ordine i grandi panorama quando noi vogliamo una pace fra due nazioni quello che dobbiamo pregare sono i principati di ogni nazione perché illuminano il loro popolo perché si mettano d'accordo per fare la pace perché essendoci ordine negli angeli custodi principali cioè principati ci sarà ordine anche nella terra quindi i principati sono anche un principio ordinatore dell'ordine del universo poi vengono gli arcangeli e Pino Correa di Libera commenta la parola arcangelo si riferisce al coro immediatamente superiore agli angeli ma più genericamente ad ogni angelo superiore questo ve l'ho già detto ve l'ho già spiegato poi vengono gli angeli che sono la parte più bassa della gerarchia angelica senza questa parte più più bassa la gerarchia non sarebbe completa e questa è una cosa molto 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 interessante c'è questa tendenza pseudo aristocratica direi piuttosto radical chic come si dice di spiegare le cose più basse io sono un aristocratico io sono un principe quindi me ne frega niente dei contadini perché i contadini sono la parte più bassa della società e quindi io non mi importo di quello io vivo nella mia classe nel mio mondo questo non è lo spirito cattolico lo spirito cattolico dice ci sono principi e ci sono i contadini e i contadini fanno parte dell'ordine sociale magari sono la parte più bassa ma fanno parte dell'ordine sociale quindi senza questa parte più bassa commenta Pino Correa d'Oliveira la gerarchia non sarebbe completa in ogni gerarchia organica gli ultimi sono indispensabili perché ci sia ordine un uomo imponente ma con i piedi malfermi non si sostiene voi pensate ad un gigante ma con i piedi deboli non si sostiene o un gigante ha i piedi molto solidi oppure non si sostiene non può camminare non può fare nulla quindi per quanto i piedi possano essere la parte più umile senza di essi l'uomo non è completo questo nell'ordine sociale è la la plebe essa ha una nobiltà propria e necessaria e complementare alla nobiltà più alta ecco la differenza fondamentale fra la concezione cattolica di popolo e la nozione socialista rivoluzionaria di popolo poi siamo ancora una cinquantina di minuti una cinquina se cinque cinque o sei minuti prima di entrare nei tre arcangeli quindi voi avete visto carissimi ascoltatori carissimi anche tele televegenti videnti non so qual è la parola esatta perché ormai non è soltanto radio tele radio quindi sono anche quelli che ci vedono in diretta e ci vedono tramite youtube in differita voi avete visto che ci sono i cori contemplativi sto ripetendo un po' questa nozione perché vedete vedete come ho detto all'inizio sono nozioni molto importanti per avere una forma mentis per avere una mentalità che sia contraria agli errori moderni sono cori contemplativi cori governativi i cori esecutori e e quindi io concludo quest'ultima parte tornando a quello che abbiamo visto all'inizio cioè l'universo è una è gerarchico tutto nell'universo è gerarchico dai minerali per esempio ci sono metalli nobili oro argento platino sono metalli nobili ci sono piante nobili le rose per esempio sono più nobili di una semplice gramimia gli animali dal topo si va fino all'aquila al leone perché il leone è usato nei simboli araldici di tanti paesi perché il leone rappresenta certi valori trascendentali certi valori metafisici certi valori morali eccetera quindi è altamente simbolico quindi c'è gerarchia nei minerali c'è gerarchia nelle piante c'è gerarchia nel leone eccetera eccetera tutto l'universo è gerarchico quindi anche gli angeli sono gerarchici questa è una gerarchia feudale sto prendendo alcuni punti del libro di Pino Correa di Libera questa è una gerarchia feudale cosa vuol dire la gerarchia per essere organica quindi per essere buona per essere ordinata deve essere in gradi non ci possono essere 95% poveri e 5% ricchissimi no ci deve essere una gradatività dal più basso al più alto cioè e questo è una gerarchia feudale nella quale gerarchia feudale ogni ogni grado partecipa partecipa in su del grado superiore in giù del grado inferiore per esempio l'uomo l'essere umano partecipa del livello superiore che sono gli angeli perché ha un spirito però partecipa pure del del grado inferiore che sono gli animali quindi è questo che vuol dire una gerarchia feudale molto gradata molto differenziata ma nella quale ogni grado partecipa di quello superiore partecipa di quello inferiore quindi si tocca tutti i gradi si toccano uno all'altro uno all'altro uno all'altro e quindi la gerarchia non è scusate c'è una luce che è il sole che dopo aver sono a Salerno sono nel salernitano dopo aver piovuto tutta la giornata ecco che adesso sta uscendo il sole e sta facendo questa luce non vi preoccupate ogni grado non è un grado a sé ogni grado ha un gancio per così dire che lo collega con quello superiore è un gancio che lo collega con quello inferiore questa è la gerarchia organica questa è la gerarchia armonica questa è la gerarchia che si deve essere poi è un riflesso della Santissima Trinità mentre più ci eleviamo più diventiamo dei formi quindi per esempio un'aquila è più dei forme che un sasso il sasso ha forza sostanza può avere tanti valori però su un'aquila possiamo fare poesie possiamo fare filosofia possiamo addirittura fare teologia sull'aquila San Giovanni evangelista è paragonato a un'aquila proprio perché comincia il suo vangelo dal più alto come le acule quindi l'aquila è più dei formi nella misura in cui saliamo cioè andiamo verso l'alto nella gerarchia angelica saliamo più in dei formità come anzi è così in tutto l'universo poi c'è una scala di diafanità quindi questi sono aspetti della gerarchia mentre più saliamo in alto più gli esseri sono diafani cosa vuol dire diafano diafano vuol dire trasparente vuol dire che lasciano trasparire cosa la luce di Dio quanto più ci eleviamo quanto più in alto andiamo più e più le creature lasciano trasparire la luce divina poi ci sono altri criteri io adesso ve li risparmio la gerarchia di prossimità al motore immobile la gerarchia dei misteri la gerarchia di sintesi eccetera eccetera ve lo consiglio comprate questo libro acquistatelo leggetelo che veramente è molto interessante Plino Correa di Liveira l'angelica milizia gli angeli nel panorama attuale della chiesa e del mondo detto questo carissimi ascoltatori noi abbiamo spiegato oggi quindi la gerarchia angelica composta di tre triade ognuna con tre cori quindi i nuovi cori abbiamo spiegato cosa è ogni coro qual è la sua funzione qual è la sua natura e abbiamo visto come questo corrisponda al carattere gerarchico della di tutta la creazione nella prossima puntata tratteremo i tre arcangeli principali cioè San Michele San Raffaele e San Gabriele in attesa della prossima puntata io vi auguro un buon weekend a tutti da Giulio Loredo Ave Maria messaggeri dal cielo alla scoperta delle schiere angeliche con Giulio Loredo l'an Grazie a tutti.